28 gennaio 2022 cronaca di una serata alquanto divertente prima cattura questo meraviglioso polpo e sono stato anche alquanto fortunato nel poterlo spiaggiare visto il fondale ricco di detriti davvero un esemplare spettacolare seconda preda questa meravigliosa seppia di grada che ha attaccato l'egizzo sulla media distanza terza preda il calamaro dimensioni standard e poi sul finire arriva lui guardate che missile un colpo secco poi un 5 6 frizionato da paura sul fondo e poi è emerso questo esemplare a dir poco strepitoso uno dei più grandi della stagione in corso che dire ragazzi è una stagione fin qui positiva divertente e soprattutto con la sorpresa dietro l'angolo devo fare anche complimenti alla mia cannetta che finora mi ha regalato tante emozioni sicurezza e garanzie ciao a tutti amici dell'egging